Buonasera, benvenuti a questo ultimo dibattito dello Swenny Festival che in questi tre giorni ci ha visti lavorare parecchio su tanti concetti è stata una cavalcata secondo me abbastanza entusiasmante che ci ha permesso di conoscere, almeno a me personalmente ha permesso di conoscere tantissimi talenti e realtà che abbiamo su questo territorio di cui noi generazione di boomers non avevamo praticamente idea quindi questa cosa qui mi riempie di particolare soddisfazione mi fa piacere aver visto in tutte queste giornate, queste sessioni un pubblico che ha un range di età veramente considerevole abbiamo visto un po' di tutto e tutti quanti mi hanno poi manifestato e si è visto anche proprio nell'attenzione che è stata posta a quello che si svolgeva sui palchi veramente è stato seguito con molto interesse quest'oggi facciamo un ultimo incontro per il quale io ho molta curiosità abbiamo provato a raffrontare il modo di creare contenuti quali siamo abituati a conoscerlo da qualche ventina di secoli e più e questi modi del nuovo millennio che si affidano all'intelligenza artificiale metodica che non so se si può chiamare metodica ma comunque che sfugge a parecchi e quindi di cui spero che qualcuno poi ci dia anche qualche nozione proprio molto basica e per capire dove e come si può usufruire di questi contenuti creati a questa maniera così molto alternativa allora io a questo punto lascio la parola a il nostro Nicola Peirano che ha insegnante chiavarese che ha tenuto anche per noi come società economica un due corsi di sceneggiatura televisiva e Adamo Romano che è un imprenditore digitale creatore di contenuti e titolare del pagina pagina maledizioni il quale si affida invece proprio a questa metodica dell'intelligenza artificiale e diamo anche il benvenuto a Luca Ravettino che condurrà l'attenzione fra i due vediamo cosa ne esce grazie a tutti e buona stessa intanto grazie per la presentazione perfetta e che mi sono dovuto risparmiare io e quindi possiamo andare dritti al punto l'incontro di oggi tanto grazie di essere qui buona serata a tutti l'incontro di oggi è su chat GPT e sulla creatività quindi la prima cosa che io vorrei fare è farvi vedere esattamente che cos'è chat GPT e allora facciamo così se vedete se vedete nello schermo c'è esattamente chat GPT che ha tutte le sembianze di una chat io adesso gli scrivo sono a una conferenza su chat GPT e creatività puoi scrivermi un testo in cui spieghi cosa sei cosa puoi fare non c'è nulla di programmato sta facendo tutto in questo momento e per quanto tendi a essere abbastanza logorroica in realtà dice delle cose tendenzialmente precise questo sarà parte degli argomenti che affronteremo in realtà chat GPT attualmente capisce quello che l'uomo gli chiede ok non è ancora la fase successiva cioè non siamo ancora a dal 9000 di 2001 di Siano lo spazio ma lo incominciamo a vedere per darvi l'idea scrivi una poesia in indecassillabi rima baciata sullo Zueni Festival ok ci siamo capiti ok pensavate di venire a un incontro di tecnologia invece siete venuti in un incontro di etica e metafisica ok quindi tantissime potenzialità immaginatevi questo cosa può fare nel mondo della creatività è vero verissimo ma immaginate questa cosa applicata ad esempio allo sviluppo alla programmazione cioè nello stesso tempo in cui lei riesce a produrre una poesia originale e a suo modo autentica ok di questo tipo riesce anche a creare paginate 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 di codice con cui strutturare gli algoritmi gli algoritmi che ad esempio poi vanno a gestire i dati che noi quotidianamente diamo in pasto alle macchine e in effetti chat GPT come scriveva sopra è proprio una rete neurale che riesce ad avere accesso a quantità enormi di testo e di informazioni e le gestisce rispetto agli algoritmi diciamo di una generazione precedente li gestisce in autonomia andando a capire quello che noi chiediamo presto il passo successivo sarà che capisca quello che noi vogliamo e qui c'è la parte di paura ma cominciamo a parlare con Adamo che usa l'intelligenza artificiale per lavoro la uso anch'io devo dire la verità nel mio lavoro nel digital marketing ma in maniera relativamente marginale invece Adamo fa il copywriter fa il content creator quindi va a creare contenuti e sfrutta diciamo la potenzialità dell'intelligenza artificiale veramente a fine lavorativo e con lo scopo di creare sempre nuovi contenuti quindi la prima domanda è come la usi e che prospettive ti dai nel suo utilizzo grazie eh sì bella domanda in primis voglio ringraziarvi tutti quanti insomma per l'invito e per la presenza è una è una domanda sicuramente interessante come la uso sicuramente non al massimo delle sue potenzialità perché nessuno è ancora in grado di utilizzarla al massimo delle sue potenzialità da qui non leggo però scommetto che la poesia non è uscita in rima baciata come le avevi chiesto oh non è una perfetta rima baciata non c'è sempre le rime ci sono? a B B A eh diciamo dai diciamo dai perché questo modello che stiamo utilizzando che state utilizzando e questa è la cosa estremamente interessante è il modello 3.5 modello esagerato modello precedente e a differenza del modello attualmente disponibile in commercio insomma la versione pro chiamiamola così poi in realtà è accessibilissima a tutti quanti sì alle stesse dimensioni la stessa differenza di dimensioni che c'è tra la terra e giove quindi il modello già accessibile già utilizzabile da tutti quanti è estremamente più potente e performante di quello che avete visto in questo momento che immagino comunque vi abbia sorpreso io la utilizzo in tanti ambiti in tanti campi per me per la mia azienda dalla programmazione alla gestione degli account social e personalmente per quello che riguarda poi la mia attività sui social per la quale sono più conosciuto la utilizzo nel modo più difficile possibile per la generazione delle immagini e per la comicità e vi posso assicurare che non è facile perché un robot non ha questo grande senso dell'umorismo quindi diventa difficile poi utilizzarlo in tal senso ma vi devo dire insomma e ogni giorno io sono sempre più stupito dalle meraviglie che si riesce a trarne fuori che dal punto di vista della creatività dà una grande mano non è uno strumento creativo ma è uno strumento per il creativo perché aiuta a mettere in ordine le idee ad organizzarle bene e in funzione di un buon input riesce ad ottenere una serie di output che sono poi degli spunti di riflessione importantissimi allacciandomi alla sua risposta vengo a Nicola che fa lo scrittore scrive sceneggiature e per lui la creatività ha un certo tipo di valore e ha un certo tipo di senso forse tradizionale l'abbiamo usato nella locandina per contrapporlo a chat GPT ma che curiosità hai e che paure hai nei confronti di uno strumento del genere ma allora io dovrei recitare diciamo la parte dello scettico però in realtà è molto una questione un po' più complessa recentemente alla mostra del cinema di Venezia c'è stata una una riunione dove hanno partecipato diversi sceneggiatori italiani una riunione di uno dei sindacati degli sceneggiatori italiani dove si è affrontato proprio questo argomento e c'è anche diciamo l'obiettivo di fare una proposta per una legge quindi all'attuale governo che regolamenti l'uso dell'intelligenza artificiale parto io non ero presente però ne ho letto insomma quello che è stato discusso eccetera parto da un esperimento che è stato fatto durante il dibattito a un certo punto diciamo due sceneggiatori due autori si sono confrontati su questo tipo di sfida e cioè a partire da una serie di ingredienti narrativi questo è un esercizio che a volte anche a scuola si fa quindi invento una storia che abbia queste determinate caratteristiche per cui c'è un'arena narrativa che può essere non so un villaggio in mezzo alla foresta o una metropoli poi hai un personaggio che potrebbe essere non so un giornalista tormentato un poliziotto alcolizzato e così via quindi però questi elementi diciamo venivano scelti in maniera casuale no? in modo tale che in un certo senso tutti e due i contendenti non potessero sapere già all'inizio su che cosa insomma la storia in qualche modo dovesse di che cosa la storia dovesse parlare e poi gli è stata data mezz'ora mezz'ora per lavorare uno ha utilizzato come diciamo strumento gli strumenti appunto chat gpt o comunque strumenti legati all'intelligenza artificiale e invece un altro ha lavorato in maniera tradizionale dopo questa mezz'ora qual è stato il risultato? Allora parto diciamo da un assunto la domanda conclusiva non sarebbe stata ma quale dei due lavori è il lavoro migliore anche perché in realtà hanno ottenuto diciamo due risultati molto diversi chi non ha cioè chi ha utilizzato l'intelligenza artificiale in quella mezz'ora lì è riuscito a elaborare un pitch che per chi più o meno sa che cos'è in una riga l'idea centrale della storia da vendere al pubblico al produttore la sinossi quindi un riassunto della storia un concept quindi una stesura un po' più approfondita di quello di cui parlava la storia le schede dei personaggi l'ambientazione il tema è addirittura un trailer con delle voci ovviamente artificiali che in qualche modo sono stati 30 secondi un minuto in qualche modo riassumevano quello che sarebbe stato il strumento del trailer si utilizza spesso per vendere per promuovere un'idea per rendere anche per immagini un qualcosa che se no al momento sarebbe solo su parole cosa ha ottenuto invece come risultato lo scrittore che non si è servito diciamo dell'intelligenza artificiale un abbozzo di concept molto intrigante in base a diciamo quelli che erano i pareri delle persone del pubblico però appunto una bozza dove si suscitavano delle domande degli interrogativi che in un certo senso hanno avuto una certa sono stati in grado di catturare l'attenzione del pubblico ora detto in parole povere cosa può darci l'intelligenza artificiale sul piano creativo parlo soprattutto della scrittura e cosa non può sostituire una cosa è evidente la possibilità di ottimizzare i tempi cioè l'intelligenza artificiale alcune cose non riguarda solo la scrittura riguarda tantissimi altri ambiti la medicina l'insegnamento ma non solo fa alcune tipi alcuni tipi di attività le svolge in maniera molto più rapida riesce a ottimizzare degli obiettivi per cui magari all'essere umano mi servirebbe molto più tempo lo scrittore cioè la componente umana cosa consiste? quella di cercare di lavorare sulle sfumature sulla profondità sulla densità dei temi sull'approfondimento psicologico dei personaggi sono due cose che possono tranquillamente stare insieme questo è uno dei motivi per cui da quello che ho letto dalla mia diciamo breve esperienza penso che comunque sia l'intelligenza artificiale nell'ambito della scrittura nell'ambito della creatività ma in tanti altri ambiti è una rivoluzione che in qualche modo non si può fermare detto questo ci sono tante altre cose che l'essere umano continuerà a fare meglio della macchina Nicola ha centrato un punto secondo me chiave che probabilmente tu riverberai è il discorso del tempo ed è la cosa che impressiona personalmente di più me quando devo fare qualche cosa di contenutistico dell'altra parte sei d'accordo con lui cioè sull'aspetto della possibilità di approfondire ad esempio la psicologia di un personaggio o del genere oppure è solo una questione di saperla usare sembra ridondante però è una questione di tempo ma nel senso che per adesso è esattamente come dice lui cioè adesso l'approfondimento che può fare un modello come chat GPT cloud google bar insomma anche i più avanzati non è un tipo di approfondimento particolarmente avvincente insomma è basato su dei canoni su degli standard su degli stereotipi qualcosa di magari già visto ci sono sicuramente degli spunti che la creatività umana può trarre da una generazione testuale su base statistica come quella di chat GPT però attualmente insomma io un film scritto da chat GPT non l'andrei molto a vedere ecco magari sarebbe meglio di qualche vacanza di Natale come profondità a livello di approfondimento la trama però insomma non l'andrei veramente a vedere e per ora ma i prossimi modelli se noi guardiamo le differenze che ci sono tra il modello 2 ed il modello 3 di chat GPT perché noi attualmente quello che avete visto ripeto è il modello 3,5 è un modello intermedio di passaggio tra quello precedente che è il 3 e l'attuale il più potente che è il 4 il modello 3,5 è in grado quasi di pensare può essere un assistente domestico tranquillamente vi può dare una mano a comprendere quali sono i valori nutrizionali dei cibi che avete in frigorifero darvi un suggerimento sulla dieta aiutarvi a capire dove acquistare dei prodotti che possono essere più affidabili per la vostra dieta e magari anche non lo so vi spiega come cucinarli vi fa anche una lista di ricette utilizzabili quindi potrebbe essere utilizzato per questi piccoli compiti di routine sicuramente non per un lavoro più creativo il 4 quasi il 4 può essere tranquillamente utilizzato per scrivere un breve saggio utilizzando degli argomenti già a disposizione una lettera di messa in mora una citazione in giudizio per un tribunale un parere medico con una dicitura scritta grande quanto una casa non sono un medico ma all'inizio del testo generato perché se no potrebbero sorgere problemi con le legislazioni dei vari stati ma può essere utilizzato per questo il 3 no il 3,5 no il 4 può sostituire un avvocato entry level può dare un parere legale può spiegare che tipo di effetti può avere una determinata malattia o dati sintomi quale malattia potrebbe essere quelli precedenti no il 5 cosa farà addirittura leggevo ovviamente sono sempre quando si parla di tecnologia e si leggono blog si leggono siti giornali di tecnologia chi scrive è cresciuto guardando film di fantascienza nella speranza che un giorno le sue fantasie diventassero realtà quindi dall'altro lato abbiamo una persona estremamente entusiasta che non lesina titoli particolarmente clickbait e quindi io ho letto che chat GPT5 sarà un approccio un primo approccio verso l'intelligenza artificiale forte o generale Skynet di Terminator per farvi capire insomma un'intelligenza artificiale che ha coscienza di sé può immaginare può pensare può inventare può fare cose che l'essere umano non aveva ancora pensato e che non gli ha ancora detto io io non lo so io non lo so non so se sarà già questo se sarà già possibile nella mia fantasia lo reputo poco probabile o quantomeno ci vorranno almeno un'altra decina ventina di anni buona ma c'è chi già parla di questo e quindi sì perché no potrebbe chat GPT scrivere una storia vincente che non ha che non ha pensato l'essere umano potrebbe essere la base di un nuovo Truman Show di un nuovo Matrix di una nuova storia vincente di un nuovo Romeo e Giulietta chi lo sa di sicuro ciò che so è che già adesso molti attori Kira Knightley la ricordate in Pirati dei Caraibi Kira Knightley corsa subito ai ripari ha messo un copyright sui suoi tratti somatici perché teme che un giorno l'intelligenza artificiale le rubi il lavoro e quindi si pregano la faccia di Kira Knightley e già lo fanno io ne approfitto vorrei interrompere un attimo la diretta per farvi ascoltare un audio un audio che ho sul mio telefono posso? ciao amici mi riconoscete? ebbene sì sono proprio io lo zio Jerry che saluta la popolazione di Chiavari che è uno dei bordi più belli d'Italia volevo mettervi in guardia dall'intelligenza artificiale attenzione è pericolosa non cascateci e non credete nemmeno una delle parole che dice Adamo Romano mi raccomando attenzione evviva la Liguria ok ovviamente non era Gerry Scott però insomma la voce c'era quasi c'era quasi allora non so voi ma io veramente un po' mi inquieto ma allora faccio una domanda a Nicola che è proprio legata un po' a una specie di inquietudine che comunque sia credo ci colga di fronte alla percezione dell'enormità del cambiamento io a volte penso che siamo come nel 1492 cioè è stata scoperta l'America e non ce ne rendiamo conto non ce ne rendiamo conto completamente a Nicola che fa l'insegnante vorrei fare la domanda del convitato di Pietra cioè se se il 4 fa le cose che dice lui e il 5 fa le cose che possiamo immaginare come dovrà cambiare il mondo della scuola rispetto a questo che domanda dovrei interpellare dei colleghi su questo allora domanda difficile tra l'altro so che nelle scuole di New York è stato vietato l'utilizzo di chat GPT agli alunni però è anche vero che questo conoscendo un po' cioè cercando di capire un po' come funzionano questi strumenti perché poi sono degli strumenti ok non vorrei banalizzare la cosa però anche in altri ambiti penso all'ambito medico l'intelligenza artificiale ha effettivamente delle potenzialità incredibili recentemente avevo letto per esempio che nella diciamo dell'interpretazione nella lettura di determinati esami di un attack alcuni esami diciamo diagnostici cioè le capacità di lettura dell'intelligenza artificiale sono nettamente superiori a quelle di un essere umano questo ovviamente comporta delle conseguenze per quanto riguarda l'insegnamento allora la figura dell'insegnante è una figura un po' particolare nel senso che quando noi pensiamo a un'innovazione tecnologica la prima una delle domande che ci viene spostata è chiedere ma come tipo di lavoro ok il mio lavoro cambierà non cambierà l'essere umano può essere sostituito integralmente dall'intelligenza artificiale si andrà verso un'integrazione tra le due componenti cioè che cosa dovrebbe accadere ora allo stato attuale delle cose visto che io non sono Nostradamus la situazione è più o meno la seguente ci sono una serie di lavori adesso vado un po' semplifico molto lavori di tipo cognitivo lavori di tipo manuale ok lavori di tipo tra virgolette cognitivo potrebbero essere l'imprenditore l'insegnante l'artista lo scienziato e così via ma anche l'assicuratore no lavori manuali magazziniere ma ci sta dentro questa categoria anche non lo so l'abadante l'infermiere il fisioterapista il cuoco del fast food e così via allora in teoria viste le capacità dell'intelligenza artificiale i lavori più a rischio ok di andare incontro a una completa automazione cioè a una totale sostituzione in entrambe le categorie sono lavori meccanici di routine ok faccio degli esempi appunto il cuoco del fast food il magazziniere ma anche lo stesso assicuratore ci sono degli assicuratori ok c'è un mio amico che fa l'assicuratore non c'è quindi possiamo parlarne tranquillamente forse non lo dicono esatto è un esempio tra tanti ma perché un lavoro che l'intelligenza artificiale da un certo punto di vista potrebbe fare meglio o pensate anche al settore dei prestiti l'agente umano ha una serie di dati a disposizione che può utilizzare che ne so per concedere un prestito appunto il lavoro se una persona possiede la casa insomma la sua situazione finanziaria e così via l'intelligenza artificiale può pescare ad una quantità di dati che includono anche la cronologia delle ricerche che avete fatto su internet le app che avete scaricato sul telefono espressioni facciali l'intelligenza artificiale adesso ho fatto questo studio l'intelligenza artificiale è in grado sarebbe in grado di distinguere l'orientamento sessuale di una persona in base alle espressioni del volto capite che la possibilità di gestire questa mole di dati enorme la rende estremamente competitiva per non dire che surclassa può surclassare l'essere umano in tutta una serie di abilità le cose nelle quali non può surclassare l'essere umano sono tutto sommato una serie di lavori alcuni dei quali che forse non consideriamo diciamo più di tanto nei quali il tocco umano resta fondamentale uno di questi per esempio è il diciamo è il lavoro dell'infermiere cioè tutti lavori dove un certo tipo di destrezza ma anche è richiesta anche una caratteristica che sembra una caratteristica banale ma una caratteristica che al momento l'intelligenza artificiale non possiede che è quella dell'empatia vado sull'insegnamento e poi chiudo sul discorso dell'insegnamento è un discorso un po' più complesso nel senso che l'insegnante il lavoro dell'insegnante è un lavoro creativo o un lavoro di routine tutte e due è un lavoro sociale nel senso che hai a che fare con le persone è un lavoro però che secondo alcuni si gioverà molto dell'integrazione dell'intelligenza artificiale da che punto di vista? dal punto di vista della personalizzazione ok? che ha a che fare anche un po' per esempio con il lavoro del medico cioè tutti sappiamo diciamo siamo passati tutti da una classe no? non siamo tutti insegnanti ma siamo stati tutti alunni cioè una figura due tre a seconda che ci sia un insegnante di sostegno un insegnante di potenziamento e così via per un gruppetto di alunni abbastanza numeroso no? ora non è sempre facile personalizzare l'insegnamento sul singolo ok? cioè c'è una figura che in qualche modo deve badare a un'intera squadra che spesso ha delle esigenze diverse per cui nella stessa classe convivono persone che hanno diversi talenti ma hanno anche diverse fragilità ecco secondo alcuni la possibilità ad esempio di utilizzare degli avatar no? hanno fatto questo studio in Cina dove creando una classe artificiale cioè di studenti artificiali di studenti immaginari alcuni studenti umani erano motivati molto di più all'apprendimento quindi diciamo realizzare in un certo senso una didattica che sia inclusiva ma allo stesso tempo molto individuale questa potrebbe essere una grande potenzialità per esempio venendo a te la domanda per te è questa è una riflessione che parte dal discorso dei dati che abbiamo accennato diverse volte questa sera questa enorme mole di dati che esiste in rete e tutti questi strumenti che servono a acquisire questi dati e farne qualche cosa ok? la provocazione che ti faccio è secondo te chat GPT non è forse un modo di democraticizzare questo strumento dato che di fatto in realtà lo sfruttamento dei dati è tendenzialmente appannaggio di grandi aziende di grandi governi perché poi tragicamente una delle cose a cui non pensiamo mai però i dati a un certo punto finiscono in un luogo fisico che si chiama server ok? e ad esempio tutti i dati del signor Zuckerberg finiranno sicuramente nella Silicon Valley ma sono tendenzialmente di dominio cioè di possibilità di utilizzo del pentagono siccome e questa cosa mi piace sempre ricordarla perché ce la dimentichiamo sempre TikTok che è utilizzato l'80% nella fascia 14 20 anni tutti i dati di TikTok dove vanno vanno in Cina ma in Cina hanno la Repubblica Popolare quindi non finiscono in casa di un'azienda ma finiscono proprio nel ministero degli interni cinese ok? che ha tutti questi dati per leggere chi? per leggere esattamente la nostra gioventù perché vi assicuro che in Cina TikTok distribuisce dei contenuti completamente diversi da quelli che sono distribuiti qui da noi e aggiungo ancora peggio in America quindi la domanda è questa qua potrebbe essere un modo per aprire a tutti lo sfruttamento dei dati? Bella domanda ti rispondo in modo altrettanto tra virgolette provocatorio OpenAI che è la proprietaria di ChatGPT sta alla democraticizzazione dei dati come McDonald's sta alla democraticizzazione degli hamburger quindi sono sempre aziende private fanno il loro interesse sicuramente all'apparenza OpenAI mette a disposizione una grossa molle di dati e questo suo gigantesco calcolatore questa sua macchina statistica che poi è ChatGPT e anche gli altri asset di OpenAI che sono da lì che sarebbe una versione ad immagini di ChatGPT dove tu scrivi un testo in gergo prompt disegna un cane che abbaia nello stile di Van Gogh però con strafatto di acidi ecco lui ti fa un disegno di un cane di un Van Gogh strafatto di acidi e realmente lo fa tra l'altro è anche plausibile come risultato però no per quanto riguarda l'analisi è la proprietà dei big data ecco questa è la la sfida del nostro secolo effettivamente è una partita che si gioca su tanti internet diversi prima all'inizio noi dobbiamo avere ben chiara una cosa quando noi pensiamo ad internet siamo ancora legati e più si è in avanti con l'età mi dispiace constatarlo io non sono più giovanissimo più si è avanti con l'età più si rimane ancorati pericolosamente all'idea di internet come un ambiente libero che collega tutto il mondo internet non è più così dal 2007 da quando è emerso il primo competitor di facebook in Cina immediatamente dopo che è nato facebook tra l'altro perché loro bravissimi l'hanno capito subito non è più così da quando in Europa la Nokia non si connette più a internet con i telefoni insomma adesso esistono tanti internet esiste l'internet cinese che non permette l'accesso ai propri dati alle altre nazioni esiste l'internet europeo che è fatto di burocrazia che è fatto di GDPR di cookie law esiste l'internet americano che all'apparenza è più libero ma che in realtà è l'internet che sta bannando tiktok perché negli Stati Uniti non puoi utilizzare un telefonino della Huawei non puoi aprire più tiktok in alcuni stati e quindi è una battaglia che si gioca su su tanti internet diversi su tanti continenti che cercano di rubare quanti più dati possibili all'internet competitor all'internet cinese a quello europeo perché? perché lo fanno perché attraverso i dati noi possiamo manipolare l'idea pubblica possiamo manipolare il sentimento pubblico attraverso i dati possiamo fare in modo che un determinato candidato in campagna elettorale prevalga sull'altro mettendo in giro su quei determinati profili o in quella determinata area geografica delle fake news e che ci vuole? è una cosa facilissima ormai da fare basta un po' di budget pubblicitario e qualche sito plausibile o comprare spazi pubblicitari attraverso i dati possiamo far credere che sia veramente economico andare in vacanze in Albania io non so quanti di voi ci sono stati quest'anno dai volti vedo che qualcuno c'è stato e insomma non è economico ma ci siamo riusciti attraverso i dati attraverso la propaganda i dati sono la propaganda attraverso i dati biometrici possiamo comprendere il sentimento di una determinata nazione in Cina ricollegandomi al discorso in Cina che fanno cose spettacolari ecco oggi quando parliamo della Cina forse ricordiamo tanto i nostri nonni quando parlavano delle cose mirabolanti che accadevano nell'America che era avanti di 20 anni sul futuro no loro non sono avanti di 20 anni però fanno qualche cosina che fra noi arriverà fra un anno e mezzo due anni sembra un futuro spaventoso in realtà è il presente ed è imminente sta per arrivare qui in Cina è possibile negli aeroporti capire qual è il tuo viaggio qual è il tuo biglietto semplicemente guardando un monitor il monitor analizza i tuoi dati biometrici capisce chi sei perché il governo cinese ha schedulato i volti di tutti i cittadini i cinesi sono un po' di loro insomma non sono tre o quattro e attraverso il riconoscimento facciale riesce a farti capire qual è il tuo volo e pensate quante altre cose sono in grado di fare sono in grado di riconoscere i dissidenti alle manifestazioni per esempio guardate lo stesso strumento lo stesso identico strumento quante implicazioni diverse può avere in un internet cinese in un internet americano questo non è ancora possibile o forse non lo dichiarano in Europa non lo fanno almeno noi sappiamo che non lo fanno però l'utilizzo dei dati è la nuova battaglia del futuro si decidono i governi dei popoli si decide la direzione della politica di una nazione di un popolo di un continente quindi quando tu mi chiedi attraverso la democraticizzazione dei dati ma guarda che questo strumento questo strumento che io dovrei difendere ma che ne narro le virtù però parlo anche dei suoi difetti del fatto che ogni 50 prompt se ne va mezzo litro di acqua come consumo volendo parlare di ecologia questo strumento sono più dati che prende che quelli che cede perché noi mentre lo utilizziamo lo alleniamo quindi è importante utilizzarlo in modo consapevole una calcolatrice se la utilizzo per fare dei calcoli ok se te la tiro dietro la testa è un'arma quindi l'utilizzo è fondamentale l'essere umano è il centro di questa rivoluzione non viene messo da parte da uno strumento non è il centro beh allora il tempo in realtà sta andando inesorabile vi direi se volete magari se dal pubblico c'è qualche domanda se no vado avanti io non avete curiosità? facciamo una domanda a chat GPT va bene faccio una domanda a chat GPT e poi faccio commentare loro allora abbiamo detto che capisce le domande che gli vengono fatte capisce gli input ci sono cose che però non può fare poi poi ve la lascio così se volete andare a vedere perché è interessante se ci pensate è il modo con cui riusciamo a trovare la conclusione metafisica di questo discorso e come diceva giustamente Adamo cioè il tema è quale sarà il limite qui abbiamo una versione 3.5 gratuita che inizia a fare dei ragionamenti e inizia a dare delle risposte difficili non da Wikipedia in cui c'è del ragionamento e questo quando ho provato a farlo la prima volta la domanda successiva per voi due è dove vi siete spinti quindi preparatevela già se avete già utilizzato e avete mai provato questa cosa fino a dove vi siete spinti io è una delle prime cose che ho fatto perché secondo me Dio per l'appunto comunque sia la dimensione religiosa che è tanto connaturata con l'essere umano è una cosa che non riesce non penso che riesca completamente a gestire fino a quando e questa è la domanda che lascio io a voi tutti ma prima faccio fare un giro a loro per chiedere le esperienze che hanno avuto io mi sono dilettato così allora si parla sempre di chat di pittino ho avuto ho fatto due tipi di esperienze una che ha a che fare più con la scrittura e una molto banale più legato invece all'attività al lavoro di insegnante per quanto riguarda la scrittura diciamo che l'ho sfruttato per fare una di quelle cose che in realtà l'intelligenza artificiale e chatbot appunto come chat GPT in realtà fanno molto bene cioè darti una serie di possibilità faccio degli esempi se tu stai scrivendo una storia e a un certo punto ti sei bloccato quindi nella cosiddetta fase del brainstorming che non riguarda soltanto lo scrivere cioè il brainstorming cioè il pensare tirare fuori delle idee nel momento in cui ti blocchi chat GPT ti dà delle possibilità del tipo continua tu il testo è chiaro che in base agli esempi che chat GPT ti dà poi sarai tu che in qualche modo dovrai operare una selezione però uno degli usi più intelligenti che si può fare di questo strumento è proprio cercare di sbloccare la creatività non la creatività la creatività sarà sempre per come sono le cose adesso patrimonio dell'essere umano ma per questa funzione diciamo da questo punto di vista può essere molto utile una cosa che sa fare molto bene chat GPT è riassumere e sintetizzare i testi cioè più che alzare il livello tecnico di un testo renderlo più sofisticato è in grado di renderlo più semplice di sintetizzarlo una cosa che sa fare molto bene chat GPT è sto scrivendo una storia mi espandi questo punto non lo so mi aggiungi un dialogo mi fai fare al personaggio un certo tipo di gesto puoi descrivere le sue emozioni puoi descrivere l'ambiente chat GPT esplora esplora delle possibilità all'interno delle quali poi tu fai puoi fare una selezione non può fare tutta una serie di cose quantomeno le può fare si rischia di incorrere alcuni errori se si cerca di fare per esempio un lavoro di documentazione bisogna stare attenti su qual è il tema su temi molto specifici molto settoriali chat GPT può prendere delle cantonate su temi generici dibattuti la ricetta della pizza margherita è più facile invece che dia delle risposte attendibili per quanto riguarda l'insegnamento può crearvi una verifica mi scrivi dieci frasi per fare la verifica e l'analisi del periodo mi fai dieci esercizi di matematica su questo argomento che qualcuno inorridirà l'idea però si va sempre nella direzione di ottimizzare il tempo ed eventualmente cercare anche di diversificare cioè di personalizzare le cose nel senso che io posso assegnare in breve tempo 20 esercizi diversi per 20 persone diverse che avranno determinate caratteristiche diverse sul piano dell'apprendimento e quindi in un certo senso fare le cose meglio e in meno tempo questa è la teoria non ci riesce ancora a farlo così bene ma in un prossimo futuro perché no la quattro io voglio prima ricollegarmi alla frase che hai scritto alla domanda che hai posto a chat GPT esiste Dio perché mi hai fatto tornare alla memoria una vecchia storia un aneddoto che raccontava Stephen Hawking fra mille anni centinaia di scienziati sono finalmente riusciti ad attivare la prima intelligenza artificiale forte quella sensiente quella in grado di comprendere veramente il senso di ogni cosa l'accendono e la prima domanda che le fanno è proprio esiste Dio? e la risposta della macchina adesso sì quindi questo ovviamente era grazie grazie la domanda effettivamente l'uso più folle che posso aver fatto di questo strumento mi vengono in mente cose cose veramente strane ma credo il più strano e forse anche il più provocatorio che ho fatto è stato proprio tra l'altro utilizzando il modello 3,5 uno dei primissimi giorni in cui fu riso disponibile in Europa e all'epoca ancora non si conosceva cosa fosse ti sto parlando proprio dell'inizio dell'inizio avevo un accesso beta probabilmente non ricordo e lo utilizzai collegandolo con le API di Facebook le API sono delle chiavi che permettono di utilizzare in modo automatico insomma i software comunque lo utilizzai per rispondere fingendomi un consulente in un gruppo in un noto gruppo SEO e in una settimana divenne il consulente più amato di quel gruppo perché ero in grado di rispondere a 200 domande al giorno nessun altro consulente poteva fare e io non sono un consulente SEO ne capisco veramente poco e spesso mi rivolgo a loro per chiedere aiuto poi smisi insomma interruppi perché ovviamente non presi nessuna consulenza e alla fine rivelai il trucco qual era perché era si può dire un esperimento sociale ero davvero curioso e fece una cosa straordinaria tant'è vero che poi l'amministratore di questo gruppo mi parlò e mi chiese delle lucidazioni su cosa fosse questo strumento e una delle regole di quel gruppo non so come faccio a controllarla perché è difficilissimo è non si possono utilizzare le intelligenze artificiali per dare consulenze per offrire pareri nei confronti delle persone che chiedono aiuto perché insomma che razza di consulente sei questo è l'utile però ecco è un ragionamento perché bisogna bisogna stare anche attenti è diventato impossibile distinguere tra un testo scritto da un essere umano e un testo scritto da un'intelligenza artificiale quindi nel momento in cui è importante sapere se chi ci sta parlando dall'altro lato è un essere umano prendiamo il caso tu parlavi dell'empatia una consulenza da uno psicologo un consulto da uno psicologo io me lo farei fare da un essere umano per quanto l'intelligenza artificiale sia bravissima però magari c'è quell'empatia che può aiutare ecco magari da questo punto di vista stare molto attento su chi mi offre ecco dall'altro lato un testo da leggere occhi aperti se è un testo scritto da un'intelligenza artificiale validissimo però c'è dei limiti psicologo però finalmente una domanda penso che dobbiamo passare il microfono insomma non c'è la domanda l'emozione della domanda ma sono io non lasciamo solo all'intelligenza artificiale il futuro perché il futuro sarà l'uomo insieme all'intelligenza artificiale per cui lo psicologo potrebbe essere accompagnato nella seduta dall'intelligenza artificiale quindi dall'altra parte il soggetto può avere le due risposte contemporanee o il psicologo dibatte con l'intelligenza artificiale su quello che è il risultato della loro analisi e il futuro se non lasciamo l'intelligenza artificiale scompariamo se invece lo utilizziamo cresciamo prima di chiudere volevo farla anche io una domanda ci mancherebbe perché ne vorrei fare dieci ma prima avrei bisogno di riordinare un po' le idee ci devo pensare magari domani mattina sarei pronta perché i miei tempi sono questi ma per adesso mi volevo solo focalizzare su questo scenario che dipingevi tu che peraltro è già non è futuro ma è già presente lo hai fatto notare prima della possibilità di manipolare opinioni politiche modo di pensare e quant'altro abbiamo visto con le elezioni americane l'abbiamo visto con Oxford Analytics abbiamo visto una roba che non è l'abbiamo vista tutti poi parlavi parlavate della possibilità di distinguere un testo scritto con intelligenza artificiale da un testo scritto da una persona umana per esempio ieri parlando proprio con questo ragazzo che è venuto ieri fa il lavoro nel digital marketing mi raccontava che Google è in grado di fare questa distinzione quindi non è vero ecco vabbè uno dice una cosa uno dice l'altra allora se non ci riesce Google non so come francamente ci possiamo riuscire noi ma ci sono in questa evoluzione così veloce degli strumenti che facilmente ci possono dominare dei modi per insegnare a difendersi a riconoscere lo scenario nel quale noi e le generazioni future si muoveranno allora il modo migliore è sicuramente il rapporto umano perché gli androidi ancora non li hanno inventati vi assicuro io sono un essere umano in carne e osso quindi insomma quindi sì il tatto potrebbe essere un'ottima soluzione dal punto di vista della produzione testuale la vedo veramente dura la vedo veramente difficile è vero che attualmente è possibile riconoscere dei pattern di testi scritti dall'intelligenza artificiale ciò che non si dice è che la possibilità di errore o di falsi positivi è elevatissima e non è assolutamente affidabile come controllo come verifica perché il margine di errore è talmente alto che potrebbe benissimo essere un testo umano o peggio basta una piccola modifica di una parte di testo e tutti i detector vanno a farsi benedire non è più possibile riconoscere nulla perché puoi riconoscere soltanto i pattern sempre a livello probabilistico che ci sia quindi no non vedo attualmente modi di difendersi attualmente non vedo nemmeno terribili minacce dal punto di vista quantomeno per chat e gpt insomma la legge ci protegge già abbastanza in futuro potrebbero nascere dei problemi ulteriori qualora questi strumenti si associano ai cosiddetti deep fake ad esempio prima abbiamo ascoltato una finta voce di Jerry Scotti si sentiva che era finta insomma ma era anche fatta in maniera sbrigativa con un programma gratuito esistono programmi più strutturati che permettono di fare dei deep fake con volto e voce assolutamente affidabili e questo può creare una serie di problemi pensiamo ad esempio in campagna elettorale io faccio uscire per una settimana un deep fake mentre non viene smentito mentre non viene confermato che effettivamente quel video che abbiamo visto è un fake io nel frattempo ho perso consensi elettorali e questo può incidere sul voto finale c'è anche un po' il fatto che tutto questo dovrebbe comportare degli adeguamenti di natura legislativa diciamo per la protezione dell'utente che invece probabilmente sono indietro di millenni immagino io perché no? perché io insomma ho una ho una visione forse un po' pessimistica di questa cosa credo che sia come mettere in competizione un un cavallo la legislazione italiana è un cavallo anche vecchiotto insomma è un po' zoppa avanti con il bravo cavallo però ha dato il suo con una Ferrari testa russa ecco non riesce a stare dietro alla velocità di questa evoluzione penso che la soluzione migliore sia avere fiducia nell'essere umano e utilizzare degli strumenti divulgativi parlarne parlarne tanto iniziare a parlarne perché no in ambienti non dico a scuola ma in ambienti scolastici o parascolastici e informare la cittadinanza su quelli che sono i rischi sì sì a scuola perché no magari vuole essere il cielo penso siete d'accordo volevo rispondere un attimo sulla questione della scrittura però visto che si parla anche di scuola cioè bisogna tenere presente che allo stato attuale delle cose sulla base parliamo di testi cioè chat GPT in generale i large language model vengono nutriti cioè hanno una dieta in un certo senso che viene stabilita dall'essere umano cioè io decido di dargli dell'input una certa tipologia di testi questo è determinante perché ci si è accorti che si può a seconda dei testi che scelgo dei testi che pesco si può andare incontro anche diciamo a pregiudizi di distorsioni di tipo cognitivo tipo adesso non so se si riferisce solo alle versioni diciamo di chat GP2 chat GP3 però all'inizio se le si chiedeva di scrivere scene di sesso o scene violente chat GPT si autocensurava quindi comunque anche sul piano della creatività ci sono dei limiti altra cosa che ha a che fare anche un po' con la scuola si sa che una delle cose più difficili da insegnare a volte agli studenti quando scrivi un testo è la punteggiatura i testi che hanno diciamo di cui chat GPT si è nutrita sono dei testi che hanno una punteggiatura diciamo rigorosa quindi porgere delle domande alle versioni diciamo più aggiornate di chat GPT non rispettando i criteri della punteggiatura tipica della lingua italiana crea dei problemi a chat GPT quindi comunque sia le regole della grammatica italiana bisogna conoscerle punto per quanto riguarda la scrittura il problema si pone si porrà a breve medio termine su tutti quei testi diciamo di livello cioè non Dostoievski nel senso le recensioni brevi gli articoli di giornale brevi per l'online le lettere di presentazione chat GPT le sa fare molto bene quindi il discorso è cioè questa è la speranza degli scrittori degli autori dei creativi degli sceneggiatori alzare il livello della qualità anche perché l'essere umano tutto sommato ha bisogno di riconoscere che dietro un qualcosa c'è un essere umano come artefice era l'esempio che si faceva ieri il diario di Anna Frank non può averlo scritto una macchina punto cioè nasce da un'esperienza e sul piano dell'esperienza cioè della vita per come stanno adesso le cose poi tra 40 anni si diceva mai non si può mai dire ma per come stanno adesso le cose noi diciamo siamo ancora in grado di scrivere delle cose meravigliose qualcuno si interroga più che altro su quanti scrittori quanti sceneggiatori camperanno di questo lavoro nel momento in cui servono meno persone per fare una determinata cosa e serve meno tempo per fare determinate cose la risposta è diciamo cercare di essere riconoscibili far sì che la propria voce di autore sia riconoscibile e ricercata in un certo senso noi cerchiamo in un testo in un libro in un film una voce autentica che può essere qua dal nostro scrittore preferito cerchiamo un'autenticità che al momento chat GPT gli strumenti dell'intelligenza artificiale non riescono a fare al momento perché effettivamente è sul piano del pensare out of the box cioè del pensare fuori dalla scatola non riescono a farlo come lo fanno gli esseri umani per ora io infatti pensavo se uno se chat GPT ti propone una storia dove c'è uno che si imbarca su una nave dove c'è un capitano pazzo che ha l'ossessione di andare ad ammazzare una balena bianca e alla fine affonda nell'infelice tentativo di uccidere la balena uno dice ma che storia è ma non può andare da nessuna parte e invece poi se c'è dietro qualcuno che la scrive magari viene fuori Moby Dick sì questo è uno dei diciamo il mondo dell'auditoria il mondo dell'industria cinematografica è già così comunque ci sono una serie di libri e di film che partono con alte aspettative e si rivelano dei flop soprattutto film direi ma ce ne sono tanti altri che è la storia editoriale di Harry Potter comunque sia che all'inizio è stata rifiutata da una riga di case editrici è la storia del gladiatore nessuno credeva perché i Peplum sono sempre stati dei flop pazzeschi diciamo negli anni 80 e 90 un film storico un film storico di clamoroso successo quindi le capacità predittive comunque dell'intelligenza artificiale si fermano fino a un certo punto faccio un esempio Becero se uno prova a fare la formazione del fantacalcio attraverso l'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale si basa su una serie di statistiche che in teoria dovrebbero essere attendibili perché si basa su una serie di dati che è raccolto fino a quel momento ma l'imprevisto il giocatore che si infortunia piove durante una partita questo è un esempio banale ma a che fare in generale con la vita di noi esseri umani cioè l'imprevedibilità è una cosa che al momento secondo me resta fuori diciamo dai giochi e direi che abbiamo concluso l'incontro grazie di essere stati io se posso vi suggerisco una lettura per la notte che è l'ultima domanda di Isaac Asimov è davvero centrata ci sono tra l'altro qualche audiolibro si trovano dura poco dieci minuti ma è valida su questo tema sui temi che abbiamo affrontato grazie ad Adamo grazie a Nicola e grazie a tutti voi